Ciao Marco, benvenuto su Radio Rebel, è un ritorno dopo queste estate. Ti vediamo qui per partecipare a questa selezione per l'Arezzo Wave Love Festival. Qual è la tua impressione per questi eventi? La mia impressione è che ci si deve divertire, per quanto mi riguarda ero qui per divertirmi e fare musica, poi come va? Chi se ne frega. Come vedi queste band emergenti che parteciperanno a questa selezione e se ne conosci qualcuno come vedi la scena? Allora, non li ho visti, però io non parlo dei colleghi, nel senso che sono solo contento che ci sia data gente che suoni. Questo mi fa molto piacere essere parecchio. Ti abbiamo visto in altri scenari durante questo inverno, per questa estate cosa hai previsto qualcosa? Guarda, è tutto un work in progress, è tutto in divenire, nel senso che sto lavorando su scrittura perché sto archivendo una roba nuova e poi credo di aver ricominciato a suonare sia un po' in centro Italia che su o Milano, però non so ancora quando, questo si saprà fra un po'. Ciao, noi siamo il Loo, cioè io sono Loo, ma anche loro sono i Loo. Siamo qui a Rezzo Wave, ci giochiamo la nostra carta, speriamo di andare alla grande, anzi noi siamo sicuri, poi quello che viene, viene. Adesso si presentano i musicisti che suoneranno con me. Ciao, sono Antonio Ripa, suono il basso, insomma, poi... Ciao, sono Manuel Marrazzo, suono la batteria. Ciao a tutti, sono Luca Modio e suono le tastiere. Con MusicRacer abbiamo prodotto un EP di quattro brani che si chiama Meccanismo Irregolare, tanti altri progetti, andate su Facebook loo.colangelo, che è un cognome lungo ma fattibile da scrivere. Ci vediamo ad Arezzo Wave. Ciao a tutti, un saluto dalle tre corde. Maurizio, ciao, io sono Giudimeo, noi le tre corde. Siamo qui alla Rezzo Wave, al Villanova, un gruppo che nasce nel lontano 2008. Siamo qui con i nostri inediti che sono contenuti nel nostro primo album intitolato Na. Speriamo di passare una bella serata, i presupposti ci sono tutti, quindi auguriamo a tutti un buon divertimento e sempre viva la musica. Un saluto a Radio Rebel e a presto. Ciao! Ciao!